Incontreremo persone e visiteremo luoghi dove i sentimenti saranno protagonisti. La voglia di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, la creatività, la voglia di farcela, l'umanità, la perseveranza, ma anche la curiosità. Insomma, tutto questo sarà il cuore della nuova stagione di Nersery Ballet. San Patrignano è una casa, una famiglia per i giovani che hanno smarrito la strada. San Patrignano è una comunità di vita che accoglie quanti sono afflitti dalle dipendenze e dall'emarginazione. È un luogo di valori e di rigenerazione. Parliamo di droga. La droga è una risposta sbagliata a dei problemi, a degli stati d'animo che comunque alla fine tutti proviamo, tutti sentiamo. Ci si sottovaluta, devono riconoscersi in mezzo agli altri e spesso non è così facile riuscire a mantenere la propria identità quando si vuole far parte di un qualcosa e di un gruppo. Quindi il rischio qual è? È che si segue la massa. E in realtà la massa rischia di portarci da un'altra parte rispetto a chi siamo veramente. E mio padre quella volta mi disse tu pensi di essere libera perché vivi sotto un tetto di stelle, ma c'è delle catene al collo grosse con una casa. La maglia del Bologna, sette giorni su sette, pochi passaggi, molti dribbli, quanti vetri spaccati, un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina. Da tantissimi anni avevo proprio il sogno, l'ambizione, la volontà di visitare San Patrignano. Allora Andrea sono molto contenta che tu sia qui e che tu abbia questa opportunità di visitare la nostra Sampa. Dico la nostra Sampa, non vorrei essere retorica, ma perché ormai è la mia casa, la mia famiglia. Io sono qui da 40 anni, non per un problema personale, ma comunque un problema in famiglia, in quanto mi ero innamorata di un ragazzo che aveva cominciato con i primi spinelli, ma da qui all'eroina, dallo spinello all'eroina, passato brevissimo tempo. E quindi mi sono trovata in una situazione veramente difficile, con un bambino piccolo di due anni, e non sapevo come risolvere questo problema e come farmi aiutare. E quindi sono arrivata nell'81, il 31 maggio dell'81, con un bambino piccolo qui a San Patrignano. E qui è cominciata la mia scoperta, la mia rinascita, il voler tutelare la mia famiglia e poi provare a salvarla. E' finita che il mio matrimonio è andato male comunque, perché poi però io ho ritrovato una famiglia vera e ho avuto l'opportunità di crescere mio figlio, che adesso è un uomo di 42 anni, sono una nonna di due bambini, con tutto il sostegno e l'aiuto della mia famiglia che è a San Patrignano. Allora Sara, qual è stata la tua esperienza? È importante, così magari se tu ce la racconti. La mia esperienza di vita, diciamo. La mia esperienza di vita. Vabbè, io comunque vengo da una famiglia normalissima, nel senso che i miei genitori si sono separati, io avevo un anno, però ho sempre avuto tutto, la scuola, lo sport, non mi è mai mancato niente. Solo che poi verso i 12 anni ho cominciato a fare uso di cannabis e io cercavo sempre qualcosa in più. L'ho sempre cercata questa cosa in più. Quindi più andavo avanti con l'età, più conoscevo gente più grande. Quindi si è evoluta, fino ai 14 anni ho cominciato a fare uso di cocaina e fino ai 17 che poi ho cominciato a fare uso di eroina. Mi piaceva tutto quello che era proibito fondamentalmente. Niente, poi me ne decisi di andare, me ne andai a vivere a Roma. Volevo fare la panca bestia io. Io volevo andare in giro col camper, volevo andare in giro con i cani, volevo fare i fatti miei fondamentalmente. E da lì è cominciata tutta la mia escalation, poi alla vita di strada, perché poi ho cominciato a girare per centri diurni, notturni a Roma. Poi mi sono sentita male, nell'avrile di quell'anno sono stata ricoverata per una grave setticemia, ho rischiato grosso. Mia mamma mi ha preso a casa insieme al mio ragazzo che avevo all'epoca. Ci ha fatto entrare tutte e due in comunità, tempo quattro mesi, me ne sono andata, sono tornata a Roma. Da lì ho ricominciato a stare per strada, comunque poi compagni abbastanza violenti, situazioni abbastanza violente, arresti. E poi da lì sono entrata in seconda comunità. Nel frattempo nasceva mio fratello, il figlio di mio padre, che io non ho mai visto, ho visto due volte. E poi da lì ho conosciuto un ragazzo in questa comunità e ho preso e sono andata via a questo ragazzo, viveva a casa sua. Lui aveva un padre alcolista, ludopatico, viveva in una casa popolare. Io sono andata da lì, ho fatto l'astinenza e tempo un mese ho ricominciato insieme a lui. Poi dopo è successo che abbiamo continuato, abbiamo cominciato a stare con la gente comunque del CERT, ci siamo risignati al CERT. Da lì ho conosciuto altre persone, ho ricominciato ad andare a feste. Questo ragazzo è stato arrestato, io sono rimasta da sola. Ho preso e venduto tutto quello che c'avevo, computer, ho ripreso la caparra della casa. Perché comunque anche nel frattempo facevo la vita tossicodipendente, c'avevo una casa, la prima volta che c'avevo casa. E niente, poi praticamente lo arrestano, io rimango in mezzo alla strada, a Pescara. Sono stata un annetto, girando, neanche un anno senza di lui. Poi ho preso dei soldi e c'avevo degli amici a Barcellona. E che faccio, che non faccio, vado a Barcellona. A Barcellona e da lì poi ci sono rimasta. Rimasta lì e dopo comincio a stare per strada, faccio giocoleria, bolle di sapone giganti. Comunque facevo quello che mi piaceva, stavo in mezzo alla strada e mi drogavo. Era quello che volevo fare, in un'altra città, avevo 21 anni, 22 anni, 23, 24, mi arrestano, scopro di essere incinta, che poi era la seconda volta, scopro che non sto molto bene fisicamente, che ho un problema. E quindi poi da lì comincia proprio il declino, che è durato qualche anno. Poi ho fatto entraesci dal carcere in Spagna e sono stata due anni di fila poi in carcere lì. Contro la mia volontà chiamò i miei genitori, senza che io lo sapessi. Tempo un mese vennero e la notte io mi senti male. Loro sono venuti il 30 gennaio e la notte del 30 gennaio mi sono sentita male. Mi hanno portato in ospedale d'urgenza all'inizpagna e mi hanno ricoverato. Avevo tubercolosi, mi difese a zero, pesavo 32 kg, non avevo più i denti. Mia mamma non aveva neanche riconosciuto. Ho fatto due mesi, no, ho fatto gennaio, febbraio, l'8 marzo sono tornata in Italia con un'ambulanza. I miei genitori hanno pagato un'ambulanza, mia mamma si è fatta il viaggio con me da Barcellona a Fermo. E poi veniva tutti i giorni in ospedale. E poi sono stata in ospedale dall'8 marzo al primo giugno del 2019. Poi primo giugno del 2019 entro a San Patrignano nella degenza, nella clinica interna che c'è qui. Sono entrata che pesavo 110 mili e andavo a dormire in bagno perché non ce la facevo a stai ritmi delle ragazze. Non ne ero più abituata, sono stata talmente tanto a letto, ho fatto un anno e mezzo all'ospedale tra degenza e Spagna, che non ce la facevo. E poi un giorno vedi una mia compagna che comunque non c'era niente da fare, si era messa a pulire i tappi e si era fatta male. E una ragazza che era entrata con me, è radissimo cominciato a mettere pure io a lavorare. Abbiamo cominciato a lavorare insieme, mi ha trasmesso la passione per questo lavoro. E qui cosa fai oggi? Qui lavoro con la pelle. Faccio tutto quello che è il lavoro di preparazione per le borse, portacarte, buste piatte, faccio il taglio, uso tutte le macchine, ho imparato a usare tutte le macchine. Quando è venuto uno dei responsabili dell'accoglienza, l'altro giorno volevo sapere chi mi aveva mandato in questo settore, perché ti devo dare grazie. Ha trovato il tuo talento? Non lo so se è un talento, perché c'è gente più brava, però mi piace. Cioè a me quello è quello che mi spingeva, io stamattina sono scesa alle 6, ieri sono andata via da qui alle 7 e mezza e sono scesa alle 6. Cioè io potrei farci anche tutta la notte a lavorare qua, non è un problema. Mi piace, mi piace poter ridare qualcosa magari a sto posto, che è quello che mi ha dato a me, ma non solo lavorativamente parlando, anche con le ragazze. Cioè mi sono resa conto che quando vedo le ragazze, che comunque, beh delle volte quando uno è stanco c'è anche un po' il limite, che comunque sei sempre qui, però te dà una mano. Io penso che adesso il mio futuro è questo, cioè io, è stata lunga, è stata dura, però adesso se guardo indietro mi è volato. E se penso alla vita, la mia vecchia vita, non penso neanche che sia la mia. Cioè io mi sento che sono nata qua, che sono nata qua e dico quando penso a casa, penso a sto posto. A me interessa moltissimo cosa vuol dire dare una seconda occasione a qualcuno. E penso che a San Patrignano la storia di San Patrignano sia proprio questa, cioè quella di essere riusciti a dare una seconda occasione. Assolutamente sì. San Patrignano credo che sia nata proprio per questo, perché quando quanti ragazzi, persone, allora, ma oggi, si trovano in difficoltà, sbagliano, non hanno gli strumenti per affrontare delle situazioni e si trovano in un tunnel pazzesco e molto spesso non vedono via d'uscita da soli, non ce la fanno, le famiglie sono impotenti, le risorse sono poche. E quindi avere la possibilità di trovare qualcuno, come è successo a me, che ho avuto la possibilità di ricostruire, ripartire e continuare il bellissimo progetto di vita che è famiglia, valori, tutto ciò che comporta questo, credo che dare la possibilità a chi è in difficoltà di essere aiutato sia la cosa più importante. Qui, se vuoi, trovi questa possibilità. Il mondo della droga è molto cambiato negli anni, oggi è un po' un nemico nascosto. Sì, prima il tossico lo vedevi, lo riconoscevi, avevi paura, lungo le strade buttato lì, con l'eroina, la siringa magari. Oggi molto meno, però molto subito, nascosta, soprattutto nei giovani. La droga è un problema che nasce sempre e comunque e da sempre nell'adolescenza. Quello che vediamo è una diffusione spaventosa di cocaina e crack, che sono diventate le sostanze sicuramente più diffuse e che più spingono le persone a cercare aiuto alle comunità. Nel corso di tutti gli anni di questa esperienza, qual è la cosa che è rimasta come punto e riferimento nel metodo di San Patrignano? Allora, rispetto appunto alle nostre attività di prevenzione che rivolgiamo alle scuole, quello che è rimasto e che porteremo sempre avanti è l'elemento che caratterizza il nostro progetto, ovvero il fatto che i nostri ragazzi raccontano le loro storie agli studenti che noi incontriamo in tutta Italia. È la storia, il vissuto, la chiave che ci permette di entrare in relazione con loro. Quello che accade è sostanzialmente un intreccio di storie, perché i nostri ragazzi le regalano in sostanza. È un dono che fanno come per dire, noi non vogliamo insegnarti niente, però ascoltaci. Certo. A noi è successo questo e quello che speriamo di fare nel parlarti è che tu non commetta i nostri stessi errori. In quel momento si crea fiducia e chi ascolta si sente quasi di potersi abbandonare. Non è vero che una volta tanto cosa vuoi che sia, che tanto smetto quando voglio, tanto cosa vuoi che accada, lo fanno tutti. Lo fanno tutti, tu sei tu. Certo. E cerca di andare da un'altra parte. Se incominciano ad andarci a uno a uno, da quell'altra parte, magari la massa si sposta. Quello che cerchiamo di dire loro è proprio questo. Difende i tuoi sogni e porta avanti i tuoi obiettivi, perché poi appunto alla fine è difficile. E chi arriva in comunità è fortunato. Certo, è vero. Perché purtroppo tanti questa opportunità di rinascita non ce l'hanno. Sai, questa vita mi confonde con i suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni, nelle stanze di un hotel. Antonio, quando vedono te gli ospiti di San Patrignano e chi anche è un tuo collaboratore, chi incontra? Incontra dietro un camice un'esperienza di che tipo? Io spero che loro incontrino una persona come loro. Non voglio che incontrino niente di diverso. Ecco, io voglio che incontrino quello che loro possono diventare. Quindi voglio essere, diciamo, il mio obiettivo principale effettivamente è fare in modo che loro possano credere in quello che può essere il loro futuro. La parte fondamentale, se vogliamo andare proprio secondo me al centro del problema, è che ci sia una competenza profonda, che però non sia una competenza staccata, distante, dell'esperto che incontra il paziente. La competenza profonda è l'aver vissuto prima persona determinate esperienze e poi averle vissute per anni in tante altre persone, ma non creare mai una barriera che ti fa considerare quell'altra persona diversa da te. E questo secondo me le persone lo capiscono e questo è il succo, secondo me, di San Patrignano. Cioè che tu cerchi di educare, cerchi di curare, ma non perché tu sei il medico o l'educatore o lo psicologo e lui è il malato. Non è assolutamente questo il caso. Non c'è, io sento parlare di stigma nei confronti delle persone che usano droghe, e questo è un termine ambiguo perché in nome dello stigma si cerca di far vivere alla persona che usa droga la sua condizione come normale. Invece secondo me questo è uno stigma. Lo stigma, per non essere stigmatizzanti verso gli altri, bisogna dire agli altri tu puoi vivere bene anche senza droghe. Questo è il vero eliminare lo stigma nei confronti delle persone. È chiaro che l'esperienza di tante altre persone che hanno condiviso queste difficoltà possa essere di esempio e di forza per coloro che magari non hanno più la forza di pensare di riuscire a venirne fuori, però qui trovi la speranza di poterlo fare. Secondo me hanno ragione anche i vegani, ci incazziamo per i cani abbandonati, poi ci ingozziamo di insaccati e in fondo dai parliamo sempre di salvini, di immigrati e clandestini, ma in un campo rifugiati a noi non ci hanno visto mai. In questo tipo di comunità entrano in gioco un sacco di sentimenti e anche di atteggiamenti. Mi viene in mente il dubbio, mi viene in mente la bugia, mi viene in mente la speranza, il perdono. Le vedo un po' tutte figlie di questa seconda occasione. Durante la loro permanenza a San Pattenegnano li vedi, come dire, dargli una priorità a questi valori importanti? Oppure vedete più di quello molta fatica per raggiungerle da parte di questi ragazzi? No, molta fatica sicuramente, molta fatica per raggiungerle. È chiaro che tutti questi sentimenti sono quotidiani nel lavoro di ogni ragazzo, i sensi di colpa, la responsabilità che hanno nei confronti delle loro famiglie, dei genitori, il dubbio anche di come mai tu mi vuoi aiutare così a tutti i costi, eppure non sei mio fratello, non sei mia mamma, non sei... Quindi bisogna andare a scardinare tutto questo blocco, diciamo, di sentimenti e di valori che per troppo tempo tante persone, tanti ragazzi non hanno potuto assolutamente viversi. E come si fa ad arrivare in quel punto così profondo? Eh, ci si arriva, ci si arriva perché questo è un percorso lungo, è un percorso di vita, un percorso complicato, è faticoso, ma perché faticoso? Faticoso perché tutti i giorni devi combattere con i tuoi mostri, quindi, come dicevo, col senso di colpa, col senso di responsabilità, e lì avere sempre qualcuno che ti affianca nel provare a darti delle risposte insieme, laddove è possibile, chiaramente, perché poi ci sono magari situazioni più complicate che hanno bisogno di un lavoro diverso, ma laddove è possibile accompagnarli nello scrivere, non solo cose banali, perché alle loro famiglie, accompagnarli a non scrivere i loro figli, che magari si sono sentiti abbandonati, chiedere anche perdono per aver fatto degli errori e non erano certamente lucidi, non volevano sicuramente far loro del male, ma con le loro azioni hanno provocato dolore, grande dolore nelle famiglie, avere la possibilità di condividerlo, perché poi il rapporto con i pari ti rendi conto che non sei solo tu, tu hai questa esperienza, ma il tuo amico che ti sta vicino ha avuto altre esperienze, e magari ti può raccontare che puoi trovare la strada per venirne fuori. Quindi anche queste attività, diciamo, che vengono definite di secondo piano, come per esempio quelle artistiche, tipo la musica, il teatro, la poesia, sono fondamentali, sono fondamentali, camminano di pari passo con tutto, ogni ragazzo magari può avere delle predisposizioni, può avere delle, diciamo, aiutarlo magari a trovare la chiave per andare a risolvere quel tipo di situazione, e molto spesso gli educatori allora magari raccomandano un corso di teatro, abbiamo visto ragazzi che non parlavano per mesi, muti, con... cioè è difficile poi lì andare a stanare delle cose, e invece piano piano prendere forza, prendere coraggio, con tutta una serie di attività che cerchiamo di mettere a disposizione. He left no time to regret, Cos'è che tutte le mattine ti dà, come dire, la carica e la forza di fare il tuo lavoro che è un lavoro molto impegnativo? A me quello che dà la carica è vedere le persone cambiare, perché la persona deve cambiare, non deve semplicemente smettere di usare droghe, anche in carcere tu smetti di usare droghe, sei costretto, no, la persona deve proprio cambiare, il cambiamento è qualcosa che ha degli aspetti cognitivi, razionali, ha degli aspetti di meditazione, ha degli aspetti che possono essere, io non mi vergogno di usare questo tema di carattere spirituale, se non religioso, spirituale. Quindi una conversione forse. Una conversione è una formazione di una coscienza e nella coscienza c'è dentro tutto, c'è la parte spirituale, la parte razionale, c'è tutto e la gente deve sviluppare una coscienza tale che per loro diventa inaccettabile fare quelle cose che prima facevano, questo è il punto di arrivo. Te personalmente, proprio come persona, te Vittoria, come riesci tutti i giorni a trovare la carica giusta per affrontare tutto il tuo lavoro? Allora, credo che la forza di venire tutti i giorni e di sapere che devo affrontare una nuova giornata è quella di sapere che ci sarà sicuramente, vivrò un successo, vedrò quel ragazzo arrivato ieri, magari che oggi è un pochino meno triste rispetto a come l'ho visto ieri, o quel ragazzo che ho avuto la possibilità di incontrarlo che era davvero in difficoltà e dirmi, guarda Vitto ti volevo dire che ho visto la mia famiglia, mi sono molto rasserenato. Quel ragazzo che è riuscito a prendere il diploma e dire ho raggiunto un obiettivo, finalmente sono felice perché posso andare a casa e dimostrare a me stesso e a tutti che ce l'ho fatta anch'io. Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, ti volevo regalare un portafortuna, ne ho bisogno, che è anche un nostro ambasciatore e anche a lui è stata data a suo tempo una seconda occasione. È vero, Pinocchio, benissimo, ha fatto la seconda possibilità e speriamo e credo che sia giusto poterla dare a tutti. Noi siamo una risposta, ma ci sono tante altre risposte e quindi credo che sia… Anche perché nell'errore ci possiamo cadere tutti? Sì, tutti, indistintamente tutti e non ci sono situazioni, come dire, in qualche modo tutelate. Nella mia esperienza ho visto famiglie unite, ho visto famiglie disunite, famiglie con problemi tossicodipendenza già precedenti, trovarsi a combattere con i loro figli caduti nel tunnel delle sostanze senza avere la possibilità di aiutarli e qui da noi hanno trovato la loro risposta e questo ci fa tanto piacere. Grazie di tutto. Grazie Andrea, mi ha fatto molto piacere davvero vederti. Grazie, buon lavoro. E grazie anche a te. Una visita a San Patrignano dovremo prima o poi, presto o tardi, farla tutti per capire fino in fondo la grandezza di quel luogo, la grandezza di quella comunità, la grandezza di quella grande famiglia. Un luogo dove si approfondisce il valore della seconda occasione, il valore del perdono, della speranza, il valore della rivincita e del riscatto. Tanti ragazzi che sono caduti magari in un errore, ma che ce la stanno mettendo tutta per ripartire, per rialzarsi e per rimettersi in cammino in un mondo che li aspetta, in una vita che li merita. Veramente è stata un'esperienza unica che non posso commentare, ma posso solo incoraggiare a visitarla. ci sono un sacco di open day di cui sul sito si dà notizia dove potrete andare a visitare in una giornata un luogo veramente, veramente speciale. Io non finirò mai ringraziarlo a sto posto. Grande, grande, brava, bello, molto bello. Ok. Ti viene da vivere, ti viene da piangere, ti viene da crederci ancora, provare a lottare e dare il meglio di te, che qui non è facile, ti senti fragile, qui dove tutto quello che conta e quello che senti è sentire com'è.